da pochissimi minuti conosciamo il nostro avversario dei playoff di europa league giocheremo contro il ren andata a san siro la squadra francese è tredicesima nel nella ligand in campionato buona individualità in attacco però è una squadra che il milan può e deve battere tranquillamente perché le due rose sono molto differenti quindi cioè per il mila potrà andare peggio nel da questo sorteggio ricordiamo che c'era l'olimpic marsilia allenato da gennaio gattuso lo sport in grisbona erano squadre molto più ostiche quindi c'è capitato il ren la squadra francese si può tranquillamente passare questo turno giocheremo l'andata in casa per poi andare in francia a giocarci la partita di ritorno quindi l'obiettivo è superare tranquillamente questo turno ovviamente non ci sono mai partite semplici e facili però la rosa del milan è molto superiore a questo ren che ricordiamo è tredicesimo in classifica nel campionato francese